Eccoci all'Oro Piceno, paese famoso per il suo vino cotto, un vino eccezionale che stimola le papille gustative di tutti, anche di chi non dovrebbe. Infatti, tecnici e progettisti, prima di mettere in mano i progetti, non dovrebbero gustare questo nettare di vino. Guardate poi cosa succede. Questa è la scala per l'uscita di sicurezza da una scuola in caso di incendio o di calamità naturale. Via! Tutti di corsa per finire contro un muro! E chi non ci sbatte il muso, si va a incanalare tra le pareti della scuola e un muraglione. Scusate, ma non sarebbe stato più semplice girare la scala dalla parte opposta verso la campagna? Se sbagliare è umano, perseverare è diabolico. No, è che si sono bevuti un altro bicchierozzo di vino cotto. Guardate che hanno combinato da questa parte. Lo scivolo per disabili ha una pendenza incredibile! Nemmeno una persona sana e robusta riesce a percorrerlo. Arriva a metà e poi cade all'indietro. Chissà perché al progettista non è venuto in mente di mettere in cima un verricello. E qui? Ebbè, non critichiamo. È da finire anche se da molti anni. Forse il progettista, prima di finire l'opera, sta aspettando che gli passi la sbornia. Grazie. Grazie. Grazie.